Ho sempre affermato che Taranto ormai è terra di nessuno. Ognuno fa i comodacci propri perché l'amministrazione comunale se ne frega altamente, non controlla. Torniamo a bomba sull'acquedotto pugliese. Io non ce l'ho con l'acquedotto pugliese, massimo rispetto, ma l'acquedotto pugliese si deve mettere in riga e deve rispettare la città di Taranto e i Tarantini. I vertici se lo devono schiaffare in testa. Mi trovo presso la rampa Leonardo da Vinci. Guardate, qui furono allocati, forse un due o tre anni fa, dei tubi, i cosiddetti tubi volanti. Dovevano avere una funzione temporanea. Bene, alcuni tubi sono rimasti ancora interrati, quasi tutti, ma ce ne sono alcuni come questi che sono fuori uso. Vedete? Non sono più utilizzabili, sono praticamente spezzati, andrebbero rimossi, andrebbero tolti e stanno qui da almeno sette otto mesi. Guardate questo tubo abbandonato, guardate quest'altro tubo abbandonato, è fuori chiuso, è out, vedete? Non è più collegato e addirittura, ma è tutta la rampa Leonardo da Vinci che è diventato il centro di raccolta dei tubi. Guardate un po', un altro tubo abbandonato è lasciato qui. Guardate, nessuno si degna di spostarlo, ma il bello, anzi il brutto è che ci sono ancora altri tubi, rampa dei tubi volanti non più utilizzati. Ci spostiamo un po' più avanti ancora e vedete lì in fondo, qui negli altri tubi, ma guardate lì in fondo, lo vedete? Un tronco di tubo rotto, abbandonato, uno spezzone, sembrano quasi dei serpenti che sono stati abbandonati. Guardate qui, questo tubo che giace lì, dimenticato da tutto e da tutti. È ovvio, l'amministrazione comunale non interviene, l'acquedotto meno che mai, ma scusate, quando Chima Ambiente Amio viene a pulire in questa zona, se viene a pulire, ma non si rende conto dei tubi presenti? La realtà dunque è molto semplice, gli enti pubblici, le ditte private che realizzano gli interventi per conto degli enti pubblici o di altri privati fanno i comodacci loro, perché tanto dicono che alla fine l'amministrazione non ci controlla, se l'amministrazione che non se ne frega niente, l'amministrazione comunale, figuriamoci noi quanto ce ne freghiamo di Taranto. E allora a questo punto mi rivolgo a Lucio Lonuce, perché? Perché Lucio Lonuce è un consigliere comunale di Taranto ed è anche un componente del CDA, del Consiglio di Amministrazione di Acquedotto Pugliese. Caro Lonuce, visto che sei così bravo ad esaltare l'amministrazione Melucci, esalti tanto questa maggioranza, esalti tanto l'operato di Acquedotto Pugliese, e ora prendi per le orecchie Acquedotto Pugliese e anche l'amministrazione comunale, il sindaco e i suoi boys e le sue girls, in senso politico ovviamente, e richiamali all'ordine, richiamali al dovere, perché questa situazione di abbandono non si può tollerare. Lucio Lonuce, questi sono i compiti che ti sto dando a casa. Muoviamoci su, diamoci da fare, la città non può aspettare.